25 marzo 2018 Milano Gand Wevelgem, Sagan lo brucia in volata, Viviani scoppia in lacrime strepitosa volata di Peter Sagan sul traguardo della Gand Wevelgem numero 80. L'iridato, mentre tutti sono sulla destra a proteggersi dal vento, ai 220 metri si butta sulla sinistra e scatena la sua potenza. E, il terzo centro qui, per Sagan, il secondo in maglia di campione del mondo. Niente da fare per Elia Viviani, che da una posizione perfetta si fa chiudere al momento buono. Quando il Veronese parte dalla ruota di De Mare, che chiude tre, ormai tardi. Pugni sul manubrio e lacrime dopo il traguardo, Matteo 37.